In collaborazione con Schirama Dolomiti Adamello Brenta, Madonna di Campiglio, Ponte di Legno, Tonale, Val di Fiemme. Cari amici telespettatori, benvenuti da Floriano Moboni al primo appuntamento settimanale con S4, il talk show di Sportador.tv, il canale televisivo tutto dedicato al mondo dello sport e del turismo. S4, quest'anno è giunta la sua tredicesima edizione, siamo in onda tutto il primo periodo dell'anno, da gennaio fino a giugno per parlare di sport e turismo. Iniziamo la prima puntata parlando di sport invernale, ormai il binomio sport e turismo è molto legato, lo sport tira il turismo, il turismo tira lo sport. Noi parliamo di questo mix da tanti anni e abbiamo invitato qui nei nostri studi di Milano tre importanti esponenti del mondo dello sport e del turismo. Bruno Felicetti, direttore delle funivie di Madonna di Campiglio, un amico di notte trasmissioni, grazie Bruno per aver accettato il nostro invito. Un piacevole ritorno da dopo tanti anni. Piero De Gordens, presidente del comitato Nordi Ski della Val di Fiemme, il comitato che organizza tutti gli eventi sportivi invernali alla bellissima Val di Fiemme, ben 400 eventi a livello mondiale nell'arco di 30 anni di vita di questo comitato. E poi una piacevole sorpresa, un gradito ritorno, Alessandro Vanoi, il mitico commissario tecnico, direttore tecnico dello sci di fondo degli anni d'oro, ora sport director dei World Winter Master Games, che sono praticamente i giochi olimpici invernali. Perdonatemi questa dicitura, sono i mondiali master per gli over 30 che si tengono a metà gennaio, tra la Val Tellina, la Val di Sole e l'Alta Val Camonica. Quindi un appuntamento importante, iniziamo subito con l'amico Bruno Felicetti. Allora, una stagione che sembrava partita male, ad ottobre 30 gradi, poi a novembre buon di neve, 18 dicembre già aperti gli impianti, un grande Sant'Ambrogio in Ponte di Marcolata e poi non parliamo di Natale, giusto? Certo, ormai non ci sono più le mezze stagioni, come si dice, siamo passati dall'estate all'inverno, una bella nevicata a inizio novembre, ci ha permesso di aprire già da metà novembre i primi impianti e poi un crescendo, quindi con temperature ideali per produrre tanta neve. Già a Sant'Ambrogio avevamo il 100% delle piste aperte, gli impianti di piste aperte, in tutta la Schiara, quindi non solo a Madonna e Campiglio, ma anche a Folgare, Marileva e Pinzolo. Quindi un inizio di stagione molto molto buono, adesso dopo siamo andati molto bene anche a Natale, Capodanno fino all'Epifania, abbiamo un più rispetto all'anno record, siamo un più 10% di passager e primi ingressi e addirittura un più 20% di fatturato, quindi tutto fa ben sperare per il proseguo della stagione, sono iniziate già le settimane bianche con un ritorno molto importante degli stranieri, un po' da tutto il mondo, noi lavoriamo con 60 mercati, quindi dalla Polonia, Repubblica Ceca, Germania, Regno Unito, Benelux, Scandinavia, anche gli Stati Uniti sono in forte ascesa, abbiamo anche presenza dal Giappone, dalla Corea, dal sud-est asiatico, dal Sud America, quindi Brasile addirittura. Emirati Arabi, l'anno scorso è venuto il Brasile, le immagini che avete visto, bravo alla nostra regia, sono attuali, avete visto quanta neve, veramente poi soprattutto lo scorso fine settimana, questa è la direzione verso il Grostè, Madoni Campiglio è il fulcro, il centro della schiara Campiglio-Dolomiti di Brenta. Una schiara che parte da Pinzolo e arriva sino a Folgari, da quindi Pinzolo a Alta Valrendena, fino a Folgari a Mareilleva in Alta Val di Sole. Sì, più di mezzo metro di neve fresca in quota, a 30 centimetri a Madoni Campiglio, quindi diciamo che siamo a posto fino a Pasqua, insomma, noi saremo aperti fino al 14 di aprile, con tante novità e tante proposte da qui a Pasqua. Ne avremo modo di parlare, abbiamo una puntata tutta dedicata, continuiamo la presentazione dei nostri mitici ospiti, Piero De Godens. Allora, Piero De Godens, innanzitutto, è il direttore della schiarea di Pampiago Ski Center, Latemar Oberegen, specialmente dalla parte trentina di Pampiago, ma è il presidente del comitato Nordi Ski Val di Fiemme. Io ho detto 400 rigare a livello mondiale, tre campionati del mondo di sci nordico, 91-2003-2013, ospiterete le Olimpiadi Milano-Cortina 2026 per quanto riguarda la parte di sci di fondo e lo scorso a fine settimana il Tour de Ski, questa bellissima manifestazione, prego la legge di mandare alle immagini, uno dei grandi eventi dello sport invernale. Sì, sicuramente noi siamo partiti con, vedo qui, l'amico Vanoi nel 90, da allora 400 gare di Coppa del Mondo, i tre mondiali, le Olimpiadi, Universiadi, mondiali giovanili, quindi sicuramente la Val di Fiemme si è proposta al pubblico internazionale con lo sci nordico. Diciamo che questo è servito sicuramente a internazionalizzare l'offerta per lo sci alpino, quindi noi la nostra forza dal punto di vista turistico è lo sci alpino, però dal punto di vista agonistico, questo fine settimana abbiamo avuto la finale del Tour de Ski, sicuramente con un'immagine unica, con la nevicata che c'è stata il giorno prima, quindi neve, pubblico e dei risultati molto interessanti almeno per noi, perché abbiamo avuto sei podi, diciamo, o sei podi sia maschile che femminile, con sei nazioni diverse, quindi dal dominio che c'è sempre stato della Norvegia, che ha vinto anche quest'anno con i maschi, sul podio è salita anche la Francia, è salita la Germania, nelle femmine ha vinto l'America, la Higgins, però c'era la Svezia e la Finlandia, quindi sicuramente anche qui un risultato importante dal punto di vista della comunicazione, dal punto di vista della promozione che ci sarà in tutti questi stati, quindi sia a livello Europa che a livello America. Hai parlato di neve e siamo subito pronti, brava la nostra legia, fatti vedere la nevicata che ha fatto proprio lo scorso fine settimana, all'inizio di questa clip c'era la rampa dei campioni, avete visto dei personaggi che hanno fatto la storia dello sci di fondo, Dario Colonia che ha vinto quattro volte il tour de schia, avete visto anche Peter Nortug, un altro mito dello sci di fondo, queste sono le immagini... La Justina Kowalczyk ha vinto quattro volte, ma avete fatto bingo perché avete visto le immagini di sci di fondo in salita, 18 anni che... Ma è questo collegamento proprio che è la forza tra lo sci nordico e lo sci alpino, che è, come dicevo prima, il nostro punto di forza dal punto commerciale dell'offerta, sicuramente tra l'altro lo vediamo, un'edizione quanto mai complicata dal punto di vista tecnico, sia per gli atleti che per noi comitato nel preparare le piste, però sicuramente una soddisfazione importante, abbiamo una struttura che funziona, dei volontari che sono a dir poco enormi e infiniti perché hanno dato veramente il tutto in questa edizione con una serie di problemi dal punto di vista anche dell'influenza, perché ha colpito anche tutto il nostro comitato, però siamo riusciti a fare un'edizione, penso che come cartolina sia per la Val di Fiemme, per il Trentino e per l'Italia, sicuramente un'edizione quanto mai bella e importante. E soprattutto, però visto che si divertiva la gente, c'è il tour del gusto, perché lì giustamente la rampa dei campioni è aperta a tutti, avete visto i grandi nomi, poi la gara di Coppa del Mondo, però diciamo c'è anche un momento di convivialità non indifferente, giusto? Ma anche tanto pubblico, tanto pubblico sia lungo il percorso che sulla rampa, sul tour del gusto e al tendone prima e dopo la gara, quindi sicuramente tutti gli elementi che servivano si sono realizzati e si sono consolidati. Qualche problema di sciolina abbiamo visto, precisamente con la neve bagnata un po' così diversa. Sicuramente è stato molto pesante per la parte tecnica. Ci sono dati da fare. Senti, e adesso, Sandro, com'è il tuo stato d'animo vedere queste immagini? Sandro Vanoi, adesso abbiamo detto che è lo sport director dei mondiali master, chiamiamo così i giochi olimpici invernali, 12 specialità in 8 località, 10 giorni di gare, 3.000 atretti da tutto il mondo, ma Sandro Vanoi è stato il mitico direttore tecnico della squadra azzurra di scinodico degli anni d'oro, l'Iliammer 94, Albervi 92, Nagana 98, sino a Salt Lake City. Gli appassionati ricorderanno le mitiche medaglie di Fauner, di Albarello, di Valbusa, di De Zolt. Adesso facciamo un mix della Dicenta, della Belmondo, chi più ne ha più ne metta. Insomma, quando ci permettevamo di andare in casa dei norvegesi, l'Iliammer 94, e di battere davanti a 200.000 persone, giusto Sandro? Credo che sia uno dei giorni più belli della tua vita sportiva, l'Iliammer 94. E vedere queste immagini, che aspetto ti ha fatto? Ma chiaramente, rivedendo queste immagini, e soprattutto la Val di Fiemme, dove abbiamo iniziato, come aveva detto il Presidente, è stato proprio un inizio molto lento, dove mi ricordo che gli scandinavi ci chiamavano Spaghetti, e quando andavamo a fare le prime gare nell'87-88, ci tiravano anche le palle di neve, arrivare poi a vincere. Ecco, questa escalation è stata molto bella, perché siamo riusciti a lavorare tutti insieme, tutti in gruppo, quindi era veramente una famiglia che ha creato un gruppo di atleti, tecnici e dirigenti, per ottenere questi risultati. Vedere queste immagini chiaramente mi riporta indietro negli anni, nel tempo, e l'emozione la vivo adesso più di quando la vivevo durante le nostre gare, perché quando stai facendo le gare, pensi alla gara, pensi a vincere. Ecco, adesso invece siamo nel momento più emozionale, vedendo queste immagini che vediamo adesso, ti affiorano dei ricordi stupendi, bellissimi, che sicuramente non verranno mai cancellati. Ci ha promesso che l'anno prossimo viene, eh? Ah, viene, eh, l'abbiamo già iscritto alla rampa. L'avete a rampa di campioni, viene a farla, giustamente, voglio fare io la Marcia Longa, che è nata nel 71, a fine gennaio, vi ricordo, un grande evento per gli appassionati, pensate, 7.000 iscritti, la metà sono scandinavi, quindi se molano la scandinavia e vengono a sciare in Val di Fiemme ci sarà un motivo, giusto, Sandro, ho nota. Sì, assolutamente. Poi il giorno più bello credo che sia Lillehammer 94, quando avete battuto, arrivate Albarello, Valbusa, De Zor, Vanzetta. Sì, però diciamo che gli scandinavi apprezzano molto la Val di Fiemme perché si sentono veramente a casa, hanno trovato delle condizioni prima di tutto tecniche, quindi le piste sono molto belle, molto simili a quelle scandinave, poi si sono trovati proprio come se fossero a casa loro perché in Val di Fiemme si respira proprio l'aria dello sci nordico, dello sci di fondo e questo ha contribuito a far appassionare tutti gli scandinavi a questa località. E soprattutto citiamo, e ci fa piacere nominarlo perché è un amico di nostre trasmissioni, lo sci di fondo è nato in Italia con la mitica vittoria del 68 Olimpiadi di Grenoble nella 30 chilometri con il grande Franco Nones che era il capo stipite di una grande famiglia di appassionati tiro bambino, Stella, Chiocchetti, De Dorigo, De Floriani, mi ricordo che si parlava di questi sci di fondo che dominavano, vanno a Grenoble in Francia, anche gli sciovinisti, mica da ridere, arriva uno del sud, come dicevano loro, chiamato Spaghetti e vince le Olimpiadi a Grenoble, quindi un saluto all'amico Franco che è stato uno dei precursori, poi vi ricordo la marcia longa. Insomma, una bella puntata come avete visto, dallo sci nordico passiamo allo sci alpino perché insomma torniamo a Campiglio, Campiglio è stato a teatro, come ha detto Bruno, di una grande stagione, iniziata il 18 di novembre, bravo il nostro regista che ha trovato la foto, questo che è lui, è sì, Franco Nones, proprio lo ricordiamo, Grenoble nel 1968 la prima medaglia storica dello sci di fondo che ha dato il via, poi nel 71 è partita la marcia longa che fa quest'anno 50 edizioni, a fine di segno e poi c'è partito il comitato con le 400 gare. Sci alpino, Manolo di Campiglio, una stagione iniziata il 18 novembre, va avanti fino a metà aprile, però il 22 di dicembre c'è stata la mitica 3-3, no? È nata nel 49, era un'idea del grande roll di marchi, tre gare in Trentino, però è rimasto 3-3, erano prima tre gare itineranti, adesso è una tappa fissa della Coppa del Mondo. Prego la regista di far andare alle immagini un altro grande successo dello sport italiano, del Trentino, in questo caso di Campiglio, del comitato organizzatore. Sì, quest'anno settantesima edizione, quindi in tema di appuntamenti importanti, la 3-3 è nata, come dicevi tu, 70 edizioni fa, all'inizio girava in tutto il Trentino, poi nel suo peregrinare ha trovato casa Madonna di Campiglio ed è lì fissa da sempre. Siamo l'unica gara ad avere la data fissa il 22 dicembre, indipendentemente dai sabati e le domeniche, e quindi è un appuntamento in notturna, uno slalom di Coppa del Mondo molto seguito, quest'anno avevamo più di 15.000 spettatori a bordo pista, essendo un venerdì, poi molti sono anche arrivati prima e sono fermati anche per poi per sciare, per divertirsi, e quindi è un'edizione da rec, una edizione molto buona, l'unico neo che non abbiamo avuto gli italiani in grandissima forma e quindi abbiamo goduto della bellezza e delle performance degli stranieri. Ha vinto Marco Schwarz che poi purtroppo si è infortunato a Bormio durante una discesa libera e speriamo che possa riprendere presto il suo percorso, insomma, quindi una gara molto ben organizzata, come sempre dal comitato, quindi siamo molto soddisfatti. Allora, intanto ricordiamo una data importante, tu hai parlato delle tante edizioni della 3-3, ma gennaio 74, quindi 50 anni fa, è nato il mito della valanga azzurra, no? A Berce des Gade, Berce des Gade, le cinque italiani nei primi cinque posti, no? Tony, Pietro Giovanna e non solo, con Gross e tutto. E quindi c'è stato un revival con il compleanno di Franz Klammer. Sì, devo dire che anche alla cena che è stata organizzata in occasione della settantesima edizione, c'erano molti campioni del passato, da Alberto Tomba, a Piero Gross, a Paolo De Chiesa, a Manfred Molga, tantissimi campioni, Benny Reich, sono venuti proprio per festeggiare poi Ancriza e tante persone che hanno partecipato in questi anni a varie edizioni della 3-3 hanno vinto. Qualche anno fa è venuto anche Ingemar Stemmer, che attualmente è ancora quello che ha vinto per sette volte sul canalone Miramonti, Alberto Tomba ne ha vinte quattro, poi lui mi ricorda sempre, giustamente, che due edizioni furono annullate quando proprio lui era in splendida forma e vinse e furono recuperate a Lake dove vinse, quindi le sue vittorie possono essere sei, insomma. Ecco, questa è proprio l'immagine notturna di Campiglio, sullo sfondo illuminato il mitico canale Miramonti, una pista che arriva proprio nel centro di Madonna di Campiglio, hai parlato di Tomba quando addirittura aveva fermato il festival di Sanremo all'impiade dell'88, giusto? E 40.000 persone, non so. Sì, quell'anno lì bloccò due valli perché 40.000 persone, c'erano le persone fin sugli alberi e poi ci volevano sei ore per svuotare Madonna di Campiglio, da allora non si fa più un sabato o la domenica all'evento proprio per paura di troppo afflusso, quindi lo facciamo sempre infrasettimanale, ma devo dire che lo spettacolo è comunque di altissimo livello perché l'arena del canale Miramonti è molto bella, è molto compatta, quindi si può vedere questo slalom dal vivo in maniera eccezionale. Poi subito dopo la festa si sposta in paese perché, come potete vedere dalle immagini, la pista finisce proprio nella piazza del paese, quindi c'è un connubio perfetto fra Madonna di Campiglio centro e la sua pista, quindi questa è una cosa che sta funzionando molto bene, sono stati fatti anche tanti eventi di contorno, dall'estrazione di pettorale in piazza a tutta una serie di street food, eventi musicali per intrattenere il numeroso pubblico che ogni anno viene a seguire. Poi tanto pubblico, mi ricordo l'anno scorso noi eravamo presenti a questo evento, hai parlato dei 60 paesi che vengono a Campiglio, l'anno scorso è arrivato anche il direttore dello ski dom di Dubai, per chi ama le vacanze esotiche, Dubai ora è una destinazione importante nel mondo del turismo, un po' come Monte Carlo per l'Europa, Dubai attira tutto un pubblico del Middle East, del Far East che vanno tutti di vacanza. Gli arabi hanno, sì, in Arabia Saudita hanno preso i calciatori, i golfisti pagandoli centinaia di milioni di euro, a Dubai hanno fatto uno ski dom, una pista da discesa in notturna, c'è una federazione indoscura, che fa delle gare, l'anno scorso è venuto lì a Campiglia a vedere per imparare i vostri trucchi che organizzano. Stiamo cercando di fare una sorta di gemellaggio con loro. Ma infatti in cinque ore fa, da Venezia, Verona, Bergamo, Malpensa, sei a Dubai, impara una sciare sulla pista coperta, poi quando vedessi le montagne belle delle nostre Alpi, delle Dolomiti, con un bel aereo, uno shalt che arrivano, perché giustamente arrivano tutti gente di un certo livello, albergo 4 o 5 stelle, voi avete degli 6 stelle anche lì, 5 stelle, quindi arrivano, non sarebbe male. Sicuramente è un mercato che stiamo tenendo in considerazione, ci vuole un po' del tempo per raccogliere risultati, ma stiamo seminando, è sicuramente un mercato di alto livello, con una disponibilità di spesa molto alta, ovviamente c'è anche una richiesta di servizi adeguati, quindi ci stiamo dando da fare per organizzare al meglio sia la parte impianti e piste, che penso sia ai massimi livelli, ma c'è poi tutto il contesto, dagli alberghi alla logistica, alla ristorazione, Madonna di Campiglio ha tre ristoranti a una stella Michelin, e quindi anche questo è una forte attenzione. È questo che fa gioco al punto alla vostro turismo. Diamo a Piero, per il numero di Godenz l'abbiamo presentato, presidente del comitato riuscito in fondo, ma è anche il direttore della schiaria Schi Center Latte, ma è una schiaria che parte da Predazzo, da Tesero, da Pampeago e arriva fino a Oberegge, è una delle tre schiare della Val di Fiemme, anche voi con le Dolomiti avete un bello scienario, usate lo sci di fondo per promozione a livello internazionale, ma poi il vostro business è anche quello sci alpino. Sì, difatti noi abbiamo 60 impianti risalita, come dicevi prima Schi Center Latte, Mar, l'Alpe del Cermis e Belamonte e Lusia, collegato anche il Passorolle e gli Oclini, quindi un'offerta veramente diversificata, una stagione anche per noi d'oro, partita subito col botto a Sant'Ambrogio, un innevamento direi unico e tutti gli impianti aperti, quindi passata adesso il periodo dei clienti italiani, adesso sono iniziate già le settimane bianche, in questo momento abbiamo una forte presenza di croati, polacchi, cechi, quindi tutta la clientela che c'è in tutto il Trentino, piste, come dicevi, perfette, questa nevicata ci ha regalato 50... In effetti volevo dire, a chi ci sta guardando, queste non sono immagini truccate, qui non c'è intelligenza artificiale, queste sono immagini datate 2024, guardate che neve fresca, guardate che piste perfettamente tirate a lucido, guardate appunto come si divertono i bambini e questa è l'immagine che ci piace far vedere, quanto sono belle le nostre montaglie, le nostre dolomiti, le nostre alpi e queste sono immagini appunto della scorsa settimana, guardate che l'Ibidi è una stagione che ancora c'è tutto gennaio, febbraio, marzo e qualcuno arriva anche ad aprile, quindi sono belle immagini, Piero. Sì, sicuramente la forza nostra è proprio quella di poter dare un'offerta sia con piste facili, diciamo, per principianti, ma anche piste tecnicamente importanti. in tutti i tre caroselli, quindi noi siamo fiduciosi in una stagione come l'anno scorso, perché è stata sicuramente la migliore stagione per la Val di Fiemme, ma un po' per tutto il Supersidolo Miti, quindi veramente la preparazione delle piste è perfetta, l'innevamento è unico in questo momento, quindi vi aspettiamo intanto, qui esattamente era Predazzo, qui siamo ancora a Predazzo e questa è la nevicata che c'è stata sabato e domenica. Proprio, quindi oltre mezzo metto di neve. Grazie Piero per questa bellissima presentazione, Val di Fiemme, sci nordico, ma soprattutto sci alpino, con l'amico Sandro, non l'abbiamo fatto venire nei nostri studi per, sì, ci fa piacere ricordare il passato, ma parliamo del futuro. Allora, Olimpiadi Milano-Cortino 2026, che per me sarebbe giusto chiamarli Milano-Trentino-Cortina, perché giustamente il 30% delle gare le fanno gli amici del Trentino, o almeno Milano-Dolomiti-Cortina, questa è una mia opinione personale. Hai dimenticato Bormio che ha le gare migliori, diciamo, lo sci alpino maschile, e Livigno che ha tutto, lo scopo a un bel miss, ritorna il campanellismo trentino, alzando l'amico lombario, quindi ci tiene, ecco, però volevo dire, tanto vi godete, io le chiamo le Olimpiadi Invernali dei Master, 12 gare, 12 discipline invernali in 8 località, tu sei lo sport dei record, cosa sta succedendo dall'11 al 21 di gennaio, Alta Val Camonica, Ponte di Legno, Alta Val di Sol? Ma diciamo che questa è la manifestazione più importante per gli sport multidisciplinari, perché abbiamo tutte le discipline olimpiche, invernali, e possiamo partire da Madesimo, dove si farà il Carlin, dove hanno già organizzato i giochi dei Def Olympic Games, poi scendiamo a Chiavenna, dove c'è l'hockey, che ha una grande tradizione di hockey, dovevamo salire a Chiesa Val Malenco, ma purtroppo per le condizioni della neve, che non sono state così fortunate come in Trentino, ha fatto più caldo del previsto, non siamo riusciti a organizzare né la pista lunga, quindi lo spischeting che va a Baselga di Pinè, né lo ski orienteering, perché la neve non ha permesso ai nostri tecnici di preparare in tempo le piste. Poi saliamo a Bormio, dove abbiamo figure skating, che ha avuto un successo enorme, se pensate che appena aperta le iscrizioni, dopo poche ore, erano già sold out, con 600 persone, e chiaramente lo short track, perché è un centro federale d'eccellenza, di conseguenza hanno una bella parte, una bella fetta importante di questi giochi. Saliamo in Aprica, dove abbiamo il Super G della discesa e la gara di alpinismo in notturna, quindi due discipline molto interessanti. Scendiamo Ponte di Legno e abbiamo Speciale Gigante, altra gara di sci alpinismo con la vertical e la long, una bella corsa in salita a piedi, non con le ciaspole, poi attraversiamo il Tonale e arriviamo a Vermiglio, dove abbiamo Fondo e Biato. Ma avete oltre 3.000 persone iscritte, dai 30 ai 90 anni, cioè chi ce la fa? Sì, 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 assolutamente, ma il bello di queste gare è come hai sottolineato prima, c'è questo grande connubio tra turismo e sport, perché questa gente qui non è che ha come primo obiettivo il risultato, ma il loro primo obiettivo è di visitare posti nuovi, di vedere le condizioni di queste località e il nostro obiettivo invece è quello di fidelizzarli e fare in modo che tornino. Un'altra cosa molto importante è stata che tutte queste valli si sono consorziate, mentre prima si portava magari via i clienti perché io preferisco che vengono in Lombardia, loro preferiscono in Tretino, adesso siamo insieme, quindi abbiamo imparato a lavorare insieme. Grazie Sandro, ti devo interrompere perché c'è la pubblicità, finisce qui la prima parte, la prima puntata di S4, però continueremo a parlare ancora di questi argomenti importanti legati al mondo della neve, i mondiali master, tour de ski, la trattata di campiglia, insomma le gare più importanti in questo inizio di stagione legati al mondo della neve, tutto questo dopo l'interruzione pubblicitaria, nella seconda parte della prima puntata, non toccate il telecomando, tra poco.